Il sogno del Marocco si ferma alla semifinale del Mondiale in Qatar contro la nettamente più forte Francia. La squadra di Valide Regragui si è resa protagonista di un percorso clamoroso ed inaspettato, raggiungendo comunque un traguardo storico per la selezione marocchina. Nonostante la delusione e le lacrime dopo il triplice fischio, i giocatori hanno comunque voluto omaggiare i loro tifosi. Akhimi, Ziyec e compagni si sono infatti incinocchiati per una preghiera da là, verso i tifosi, gesto con cui hanno festeggiato le loro vittorie e che hanno voluto riproporre anche dopo la semifinale persa. Adesso li aspetta la finalina del terzo posto contro la Croazia. La comunità magrebbina di Caltanisset ha vissuto serate di gioia e festeggiamenti di un popolo estasiato dalle gesta della sua nazionale.